Buongiorno, siamo i ragazzi che gestiscono la sicurezza del Giro d'Italia per l'istituto Securevent. Ci hanno giustamente chiesto come abbiamo gestito la sicurezza in questo periodo di Covid con questa pandemia in atto e devo dire che ad ora la situazione è abbastanza buona, abbiamo creato bolle per ciclisti e sicurezza per il personale, quindi lavoriamo tutti in sicurezza, riusciamo a tenere bene le persone separate senza creare sembramenti il più possibile ovviamente dove si può, aiutati giustamente sempre dalle forze dell'ordine locali. Abbiamo ovviamente anche intensificato il numero degli operatori di sicurezza che lavorano nel settore mettendo nuove frontiere, vecchie guardie in modo da poter avere esperienza unita a un maggior stato di salute, come si può, non so come dirvelo. Per il resto la situazione qui ancora è molto buona, riusciamo a tenere duro, riusciamo a garantire la sicurezza sia per gli spettatori e sia per le persone che stanno all'interno e che lavorano. Io ho detto questo, vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato e per partecipare alle prossime tappe di questo bellissimo evento che si tiene in tutta Italia e vi auguro a tutti una buona giornata qui da Lanciano, è tutto, ciao! Grazie a tutti!